Mi chiamo Anna Maria Tuliak e sono insegnante di ruolo, di scuola secondaria di primo grado. Sono insegnante nella scuola media Rosselli, istituto comprensivo Gino Strada. Sono insegnante da tantissimi anni, dal 1987. Ho fatto l'insegnante elementare per 14 anni e poi sono diventata insegnante, ho passato il concorso, ho superato il concorso e sono diventata insegnante di scuola media secondaria di primo grado. Insegno in questa scuola dall'anno scolastico 2001-2002. Non del tutto, sono contenta di aprire una nuova pagina della mia vita e sono curiosa di vedere che cosa succederà. Sono fiduciosa, spero che la salute mi accompagni, ma ho il progetto di fare cose nuove e diverse rispetto a quelle che ho fatto fino adesso. Dunque, io mi auguro di sì, spero di aver lasciato nei miei allievi dei buoni ricordi. Ho fatto con loro delle belle esperienze, ho dei bei ricordi. Può anche darsi che non sempre sia stata all'altezza. Io non penso di essere un'insegnante perfetta, anzi, assolutamente no. Ma ho cercato di dare il meglio di me stessa e ho cercato soprattutto di divertirmi in questo mestiere e secondo me questa è sempre la strada giusta. I momenti più emozionanti sono le soddisfazioni che si hanno dopo lavori faticosi, come può essere uno spettacolo che vede coinvolta tutta una scuola. Possono essere cose emozionanti, possono essere gli allievi che tornano e ti dicono, professoressa, io mi ricordo le sue lezioni oppure che ti dicono, professoressa, ma sa che io continuo a fare teatro nelle scuole superiori e ho coltivato questa passione che è nata qui, in questa scuola? Ecco, quelle sono le grandi soddisfazioni. I momenti più brutti sono quando ti sembra di non avere gli strumenti per gestire delle difficoltà e ti sembra di essere sola di fronte a una lunga salita ma poi spesso la collaborazione con gli altri aiuta a trovare la strada giusta e a risolvere anche problemi più difficili. Momenti brutti sono anche quando ti scontri con questa età difficile perché l'adolescenza è un'età difficile e capisci di non essere in sintonia con loro e allora devi cercare altre strade per arrivare a loro e devi trovare le strategie giuste e spesso non le trovi subito però poi, insomma, un po' con l'esperienza un po' con l'aiuto dei colleghi un po' con la capacità anche intuitiva bisogna essere molto intuitivi anche in questo mestiere alla fine si riesce a trovare sempre la soluzione. No, assolutamente no ho mille altre cose da fare no, no perché sono curiosa e vorrei provare a fare altre due mila cose di cui ho rimpianto di non aver fatto. Mettersi in ascolto essere curioso ed essere entusiasta è lasciarsi un po' andare nelle cose lasciarsi trasportare dagli altri e lasciarsi trasportare dalle situazioni e divertirsi ecco, trovare il modo sempre di divertirsi e di fare una cosa creativa perché l'insegnamento può essere un lavoro creativo e secondo me in questo è la chiave giusta per affrontare questo mestiere. Più che il teatro mi piace la danza se posso dire io ho coltivato questa passione per la danza quando ero ragazza ma ho cominciato tardi ad accostarmi alla danza per cui non avevo un'impostazione classica ho cominciato subito a fare teatro-danza e questa passione mi è rimasta questo interesse per la danza per il linguaggio del coreutico mi è rimasto e poi nel 2009-2010 ho avuto la fortuna di incontrare una ragazza una giovane allora neolaureata che venne qui come educatrice e che poi è diventata scrittrice si chiama Paola Cereda e lei propose alla nostra scuola che stava chiudendo cioè nel senso che era un po' in crisi perdeva utenza propose di aprire questo laboratorio di teatro proponendolo insomma a tutte le classi della scuola aperto tutte le classi della scuola un po' anche per rinnovare l'offerta formativa della scuola e così abbiamo fatto inizialmente abbiamo cominciato con lei questo percorso poi lei ha fatto altre cose e sono rimasta io quindi a portare avanti questo vessillo e ho continuato io prima un po' faticosamente e poi insomma tutt'oggi siamo ancora qui con il nostro progetto espressivamente ma l'idea originaria è arrivata da questa mia amica che ci ha dato praticamente l'idea e devo dire che tutte le volte che la società è entrata nella scuola questo incontro ha fruttato ci ha portato elementi innovativi ed è stata proficua per la scuola e arricchente Sì assolutamente nella nostra scuola l'ora di approfondimento è dedicata proprio a queste attività espressive quindi nella nostra scuola durante l'ora di approfondimento alcune classi fanno danza altre fanno teatro altre fanno fotografia gli anni scorsi alcune classi hanno fatto cinema utilizziamo le passioni individuali degli insegnanti per organizzare questo progetto e quindi tutti i ragazzi della scuola durante quest'ora fanno attività di tipo espressivo e creativo e utilizzano linguaggi diversi dai linguaggi tra virgolette scolastici e quindi usano il linguaggio del movimento della danza del teatro per esprimersi e questa è una grande e forte come dire un grande e forte mezzo di comunicazione soprattutto per quei ragazzi che hanno più difficoltà a livello scolastico e che invece attraverso questi linguaggi trovano il loro canale per esprimersi e per comunicare con gli altri e per raccontare di sé ecco questa è la grande la cosa preziosa di questi nuovi linguaggi che danno la possibilità ai ragazzi più in difficoltà di poter comunicare con gli altri e parlare di sé allora quest'anno gli spettacoli saranno diversi le proposte quindi teatrali o coreutiche saranno diverse la nostra scuola è formata da 16 classi quindi non era più possibile presentare un unico spettacolo perché siamo in troppi in questi anni la scuola è cresciuta e quindi non è più possibile presentare un unico spettacolo che comprenda tutte le classi e quindi abbiamo deciso di spezzare il progetto in tanti piccoli spettacoli tra l'altro ci avvaliamo anche della consulenza di una ballerina di una danzatrice esperta in danza educativa che ci cura le coreografie che collabora con noi da molti anni si chiama Petra Comaschi il mio spettacolo quest'anno tra l'altro il tema che unisce tutti gli spettacoli è unico e tutte le classi lavorano sul tema della costituzione per cui ci sono classi che lavorano sul tema della libertà su dell'uguaglianza io quest'anno con la mia classe ho lavorato sul tema del lavoro e quindi il mio spettacolo racconterà il lavoro ieri di oggi racconterà i principi che sono la base della costituzione che riguardano il lavoro e racconterà il mercato del lavoro di oggi ma racconterà anche delle morti bianche e quindi insieme ai ragazzi abbiamo preparato questo spettacolo fatto un po' in parte da coreografie preparate anche insieme a loro testi di attualità interviste ai loro genitori e interviste a loro stessi quindi i miei spettacoli sono sempre un po' un insieme di tante cose ciao a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti